Purtroppo a volte ho dei conti in sospeso con gli albitri, però è il mio gioco, è il mio gioco, ma penso che il calcio sia bello per questo. Poi a volte mi fiscano dei falli dal mio punto di vista che non ci sono e questi falli per noi sono molto importanti perché fanno respirare, ci fanno salire. Purtroppo anche oggi in alcune situazioni si è visto, ma è il passato, l'importante era prendere i tre punti e oggi ci siamo riusciti. Ecco, tu secondo me sei stato proprio l'emblema di questa lotta, di questa voglia di andare a buttare il cuore su ogni pallone che vi ha permesso poi di vincere la partita. Quando sul gol del pareggio magari poteva subentrare paura, sconforto per come l'hai preso e invece voi avete reagito. Tu hai lottato su ogni pallone, hai fatto una partita clamorosa, increscendo col passare dei minuti, ma oggi veramente la sensazione è che avete veramente percepito che non poteva esserci un risultato diverso dalla vittoria. Sì, io penso che la nostra squadra non possa prescindere dall'umiltà e la lotta perché in questa Serie A, con questo equilibrio, la prima cosa che devi mettere in campo è questa perché tutte le squadre sono di un livello abbastanza simile, tolto due o tre, quindi oggi penso abbiamo messo sul piatto la lotta e il cuore e alla fine con la voglia siamo riusciti a vincere una partita e penso alla prima volta che ho sentito lo stadio esplodere in questa maniera e è stata una bella cosa, soprattutto prima di Natale. Importante per ripartire con grande voglia nella fine del giorno d'andata dopo questa sosta, anche la classifica adesso vi dà più fiducia e comunque l'Udinese ha battuto il Cagliari che è la rivelazione di questo campionato, quindi tanto merito. Sì, con grandissima fiducia ripartiamo a gennaio perché ancora il giorno d'andata non è finito e abbiamo due partite alla nostra portata, quindi dobbiamo essere lucidi nel dire che stiamo facendo un buon campionato perché abbiamo 18 punti, abbiamo squadre sotto con tutte le difficoltà che abbiamo avuto da gennaio a adesso perché bisogna ammetterlo anche l'anno scorso, è stato un anno molto positivo. Sappiamo che l'Udinese è una squadra che ha avuto una classifica sempre importante ma è un percorso partito da gennaio che piano piano stiamo cercando di rimettere nei binari giusti e il prossimo gennaio continueremo a farlo.